Presidente Lucci, innanzitutto complimenti perché lei si conferma a capo dei Coricom nazionali. Se vogliamo, questo è un riconoscimento in generale per la nostra regione, al vertice dei comitati per le comunicazioni nazionali. Sì, è un riconoscimento all'Abruzzo, al lavoro di una squadra, a un comitato che si è distinto negli anni per grande capacità di innovazione, ma grande capacità anche di impegno, di lavoro, di accoglienza e anche di creatività, se vogliamo. Quindi veramente una bella soddisfazione che oggi ci pone al centro del dibattito nazionale sulla comunicazione, che ci vede anche protagonisti delle importanti riforme che sono in corso di elaborazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, presso l'Autorità Garante per le Comunicazioni. Noi ce la metteremo tutta, come abbiamo fatto già in passato. Quali sono le sfide da qui nel prossimo futuro, per la comunicazione e non solo? Intanto per quanto ci riguarda il rinnovo dell'accordo quadro Regioni, Ministero dello Sviluppo Economico e Agicom. È una sfida importante perché lì dentro quello sarà il contenitore della sfida tecnologica del Paese, sia sulla banda larga, ma sia sulle nuove problematiche e le nuove opportunità. Parliamo di cyberbullismo, web reputation, formazione dei genitori, degli insegnanti e soprattutto dei giovani, perché oggi noi diciamo sempre che informare non vuol dire soltanto comunicare, non vuol dire soltanto informare i cittadini, ma sempre più crescita, lavoro, sviluppo, trasparenza e capacità di fare innovazione e di rinnovarsi. Come sta l'informazione abruzzese? È un momento di grave crisi economica e anche di capacità di rinnovarsi, di fare squadra, di fare anche rete e soprattutto di investire sulla qualità, sui professionisti. I contratti sono sempre più deboli, sono sempre più rari tra i colleghi giornalisti, tra i tecnici. Quindi è un momento sicuramente di difficoltà per chi vuole fare informazione. Ci sono pochissimi gruppi che investono e devo dire anche sul lato dell'innovazione tecnologica ci sono pochissimi investimenti pubblici, ma soprattutto pochissimi privati. Quindi è un momento veramente di grave difficoltà, dal quale non riusciamo ad uscire proprio a causa della mancanza di investimenti, cioè mancano le risorse e anche la capacità di saper raccogliere le nuove sfide che le nuove tecnologie hanno messo in campo e che potrebbero essere invece proprio un'opportunità nuova, piena, ma bisogna mettere in campo le professionalità e le economie necessarie.